La prima da lunga! Sììììì! Vai Mike! Ben trovati amici! Abbiamo provato quest'anno ad anticipare un po' la stagione di pesca d'altura. Siamo a fine maggio, la giornata è iniziata un po' piovosa e grigia, però siamo riusciti lo stesso a fare una bella cattura. La cosa più sorprendente è che nel pomeriggio, oltre al fatto che si è aperto il cielo ed è uscito il sole, abbiamo fatto il classico incontro con i delfini. Questa volta in maniera un po' particolare li abbiamo trovati veramente gioiosi e vi invitiamo a vedere questa scena finale e soprattutto iscrivervi al nostro canale. Noi ci vediamo la prossima volta. Buona visione! 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 Vai! Non ci credevo proprio a quest'ora, a fare la partenza. È troppo divertente. Che è un black bus? Un paio di chili. Un luccio? Che è un luccio? Tagli Alberto! Strike! Sta pizza, ha dato un po' di energia. Mai ci hai ragione, Mai. È proprio lei. Non sa che è proprio lei. Vai, scuola la stagata. Non c'è bisogno. Non hai messa la stagata là. No, ci stai, non ci siamo. Stai traverso. Ma è lungo questo pesce o mi sbaglio? Guarda un po'. La guglia, la guglia. Ecco. Non riesco a vederla. Oh, è una bella la lunga, grossa. La lunga, la lunga. È bella. Ha tolto il fatto su una punta? Vai così. Vai così. Vai così. Torso. No, alla lunga. Alla lunga, alla lunga. Alla, torno, raga. Alla lunga, alla lunga. Guarda la lunga. Alla lunga. Alla lunga. Alla lunga, una rossa. Aspetta, tienila, tienila. Tienila, tienila. Tienila Alberto, tienila. Bezza, bezza. ragazzi la prima la lunga la prima la lunga forza ragazzi eccoci la prima della stagione vai vai alla grande vai angelo alzalo ragazzi l'abbiamo presa la prima della stagione ragazzi vai la la lunga non c'è che dico però orche mi sere c'è la ragione mai oi oi non bolla niente andiamo in direzione? che faccio? che dicono questi pesci? dormono si dormono il mare pulito non c'è niente bello pulito finalmente ma pulito da tutto da pesci rimasta solo l'acqua e il sale eccolo bello vatti qua vatti qua vatti qua vatti qua vatti qua vatti qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pensavo solo di un tonno e forse, invece, un grande regalo. Grazie, ragazzi. Alla prossima. Chiudiamo queste quattro canne e Alberto ti ha dato la fidanzata. E noi chiudiamo questo pano così. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.